Sono il sindaco di Roletto, Maurizio Tiranti. Sono venuto a incontrare il Presidente per esporgli alcuni problemi che rappresentano il mio territorio. In primo luogo i problemi di viabilità, visto che l'asse della 589 Pio Sasco-Pinerolo passa sul territorio di Roletto, in previsione delle Olimpiadi ci sembra importante che i progetti che erano stati promessi e che dovevano andare in attuazione vengano realizzati in tempi brevi proprio per dare la possibilità ai piccoli comuni che stanno su questo asse viario di poter mantenere le loro zone artigianali e commerciali che per noi sono il fulcro delle nostre risorse economiche in quanto le attività commerciali portano benessere e posti di lavoro per il Comune, la non messa a norma di questa viabilità creerebbe dei grossi problemi a queste infrastrutture. In più, visti i tagli che ci sono stati sulla nuova finanziaria, i comuni piccoli di piccole dimensioni avranno grossi problemi per far quadrare il loro bilancio e quest'altro aspetto ci sembra molto importante perché si parla tanto di tagli delle tasse ma con queste nuove iniziative finanziarie fanno sì che i comuni devono aggiungere loro tasse ai loro contribuenti e ai loro cittadini. Quindi a parte il problema di viabilità abbiamo anche un altro problema molto ma molto importante che il nostro Comune, essendo un Comune di piccole dimensioni non ha più di 2000 abitanti è un Comune che sta investendo molte risorse per il verde, i parchi e i percorsi naturalistici e devo dire che sotto questo aspetto proprio la provincia ci è stata molto vicino negli anni passati aiutandoci a realizzare delle opere importanti che ci permettono di dare spazio al nostro Comune e visibilità. Ritengo che questi incontri che la provincia, in particolar modo il Presidente, dà la possibilità ai sindaci come sottoscritto di incontrarli in prima persona siano molto importanti perché sentiamo un pochino più vicino a noi le istituzioni maggiori delle nostre e possiamo esporre personalmente quelle che sono le nostre problematiche maggiori.